ragazzi stiamo fettucciando il giro ok questo è il nostro distributore di fettucce quando scenderete ad ogni incrocio ad ogni incrocio praticamente troverete due fettucce una e l'altra ok quindi non sbagliate stai facendo? sto mettendo le fascette in modo tale che le persone che scendono i carbonari capiscono che devono seguire un certo percorso questo punto è un po più segnato perché se si sbaglia è andato soltanto a morire ci abbiamo ripensato abbiamo deciso in questo punto di mettere proprio una linea intera tra due alberi perché lì è veramente pericoloso vi ricordo che il martedì le fettucce verranno tolte tutte dal grande Joe Black ok che vera con uno zaino abbastanza importante e insomma questa questa è rimasta di quel coso di fettucce enorme Giacomo l'abbiamo consumato tutto? tutto consumato ma è ben segnato più di 300 metri sicuramente dovremmo scendere per bene 12 e 20 in auto ragazzi la settimana prossima col percorso fettucciato sarà uno sballo